Professore Onnaghi, l'esigenza di formazione che viene anche da questi giovani e meno giovani riuniti qua a San Giusto Canavese è espressione di quella esigenza anche di rappresentatività nell'associazionismo di cui ha parlato durante la sua lezione? Lo è sicuramente ed è soprattutto il segno della necessità crescente in questo periodo e crescente in relazione anche alle vicende italiane di riuscire a trovare un equilibrio. Non conosciamo ancora dov'è questo punto di equilibrio, bisogna cercarlo, fra una domanda che c'è, domanda di impratichirsi al meglio dell'arte della politica da parte dei giovani e il fornire gli strumenti più adeguati per quest'arte. Credo che il senso di un corso come questo, che ha anche alcune sue complessità, alcune sue fatiche, sia esattamente questo.